Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per il secondo semestre del 2024. Due carte abbiamo ragazzi, il sole e la sacerdotessa. Wow. Energia fortemente, direi equilibrata perché qui abbiamo diciamo un rappresentante dell'energia femminile e qui abbiamo un rappresentante dell'energia maschile. Che interessante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Perché ho come la sensazione che sarà un periodo di presa di consapevolezza e di innalzamento spirituale. Andiamo a vedere. Vi ricordo che queste sono letture collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. Trovate le previsioni del primo semestre e i link ai corsi gratuiti che ci sono sul canale. Queste sono letture generali, successivamente usciranno letture per il secondo semestre del 2024 in Arenti, l'amore, il lavoro e l'economia e la crescita spirituale. Quindi se non le volete perdere vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella per essere avvisati. Ok, allora partiamo con una luna, asso di bastoni, un 2 di coppe, un 9 di spade, appeso. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un 9 di coppe e un 5 di coppe. Allora ho l'idea che questo sia un po' una... un qualche movimento da parte vostra interno verso il... ok, mi decido a buttarmi nella vita. Vi dico, qua c'erano due forti rappresentanti di quelle che sono le polarità ed ho come la sensazione che questo asso di bastoni sia proprio per riequilibrare questa luna che mi parla un pochettino di tristezza, mi parla un pochettino di passato, di nostalgia, anche di proiezioni molte volte. Andiamo a vederla. regina di spade e 4 e 5 di bastoni. Andiamo a vederla anche l'asso. Torre e regina di coppe. Allora, vi dirò cosa mi è arrivato. La prima cosa è che ci sia, in questo secondo semestre, una questione legata a una figura femminile molto grande della vostra famiglia. potrebbero esserci delle discussioni o qualche questione da dover prendere in mano. Diciamo che con questo asso di bastoni quello che vedo è un nuovo inizio. Consideriamo anche che qui avete la torre, quindi sicuramente qualche tipo di certezza accadrà. E quindi è come se con questo asso di bastoni si volesse mettere una nuova intenzione in questa situazione o in questa relazione. andiamo a vedere il 2 di coppe. 7 di coppe e 10 di pentacoli. Rimelli, ho come l'idea che certi... Allora, o qua c'è un prima e un dopo con questa torre, cioè per la serie. sento che farete valere i vostri diritti inerente a una situazione che andrete a vivere per molti in famiglia. È un po' come dire, ok, prendo io in mano la situazione, le cose non possono andare avanti. Così per l'armonia della famiglia bisogna trovare un equilibrio, bisogna trovare un punto di incontro, una soluzione. Basta distrazioni, basta... Perché sia la luna che il 7 di coppe mi parlano di proiezioni, di illusioni. Quindi ho come l'idea... Ho come l'idea che se ci fosse da accudire una nonna, un nonno, qualcuno si lotterà questo accudimento con l'ideale poi di prendere dei soldi. Questo ve lo dico perché è una cosa che mi è arrivata così, ovviamente risuona con pochissimi, però il punto qui è trovare un'armonia di famiglia, indipendentemente dai soldi, chi fa che cosa, come ci veniamo incontro, come ricostruiamo la relazione. Per qualcuno il tema dei soldi è importante, ma vi dico, lo sento per molto po', molte poche persone. Andiamo a vedere il 9 di spade. Re di spade, lì avete la regina. 3 di pentacoli e 9 di bastoni. Sì, sento proprio che è una questione familiare di gruppo, potrebbe essere tra fratelli o comunque... perché qui di nuovo mi ritorno un po', no? Probabilmente questo re di spade è una persona, potrebbe anche essere esattamente la coppia di questa regina di spade, il partner o la partner, dove c'è comunque sempre in mezzo una famiglia, è una figura da dover gestire, o è una figura o una situazione. E qui, con queste carte, come la sensazione è che vi preoccuperete più del necessario, perché il 9 di spade è una carta che mi dice che il problema in realtà non c'è già più, ma che è la vostra testa che continua a girare e a pensare, e se succede quello, e se succede quella, sulle distrazioni di cui vi parlavo prima. Qui, più che tutto, secondo me c'è da mettere i paletti, da stabilire chi fa che cosa, da stabilire i turni, mi parlano di turni, da stabilire i compiti, cioè come una suddivisione dei compiti, perché con il re di spade è come se ci fosse da fare un programma, un elenco, un'agenda. Andiamo a vedere l'appeso. Guardate, è fatti di pentacoli. Vi dico che il discorso del 9 di spade potrebbe anche essere, perché nel momento in cui si cambia un qualche tipo, con la torre cambia, o sì o sì, cambia un qualche tipo di realtà, cambia un qualche tipo di fisicità, di questione materiale all'interno della vostra vita, è anche abbastanza inevitabile preoccuparsi per il cambio. Tutto quello che è il cambiare normalmente spaventa, perché si va verso l'ignoto e non si sa che cosa possa succedere, quindi diciamo che ci potrebbe pure stare questo 9 di spade. Il punto qual è? È che semplicemente, diciamo, il consiglio che vi vogliono dare è quello di imparare giorno dopo giorno, piano piano, a navigare in queste nuove acque. E con la carta dell'appeso vi danno la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, anche di cambiare direzione o di cambiare idea. Cioè qui, secondo me, il vostro punto di forza potrebbe essere la flessibilità. Più sarete flessibili e meno problemi avrete. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Diamanti. E un 7 di spade. Datemi una carta per questo 7. Ne voglio ancora una. Allora, siccome c'è un 2 di coppe, c'è la carta degli amanti, c'è la carta dell'asso di coppe. C'è anche quell'asso di bastoni in realtà lì. Ragazzi, vi devo dire che per qualcuno potrebbe fare riferimento a una storia proprio a 2, dove probabilmente si inizia con un po' di maretta, con un po' di confusione. C'è poi questo inizio che non è un inizio, mi viene da dire. Vi dirò, se non è quello che volete, fate attenzione perché avete asso di bastoni, la regina di coppe, avete il sole qui, avete un asso di coppe qui, e sono tutte carte che potenzialmente parlano di figlio gravidanza. Quindi ho come l'idea che qualcuno potrebbe dover gestire una situazione imprevista, imprevista perché c'è la torre, e in alcuni casi potrebbe essere una persona grande da dover accudire, magari, non lo so, si è rotto un piede, per esempio, e ha bisogno di sostegno. Potrebbe essere una persona molto più piccola da accudire, o potrebbe essere anche una gravidanza inaspettata, un qualche cosa che arriva di inaspettato e che cambia gli equilibri. Di lì questo tipo di pensiero, la preoccupazione di come faccio A, ma vedo che con questo re di spade riuscirete ad organizzare, a mettere i paletti, a prendervi anche il vostro tempo, perché quando poi c'è una persona che magari ha bisogno, si tende sempre a essere lì per questa persona e a mettersi in secondo piano, invece qui vi dicono di dare fuori tanto quanto date dentro. e la chiave per superare un pochettino in questo periodo potrebbe essere appunto la flessibilità, potrebbe essere che qualcuno inizi veramente a vedere le cose da un'altra prospettiva, inizi a studiare strategie nuove per uscire da questa situazione, da questa relazione, però se fosse la questione della coppia, come vi dicevo prima, ma con questo set di spade, ragazzi, non mi quadra proprio io tutto, anche perché poi qua abbiamo un 5 di spade alla fine, quindi è come se ci fosse una sorta di vittoria amara. Per quello che vi dico, perché è vicino all'asso di coppe, se c'è un innamoramento, se c'è un nuovo progetto, se c'è un bambino che arriva, è come se ci fosse qualcosa di inaspettato che arriva, che sì, vi rende contenti, però dall'altro lato c'è qualche cosa da perdere per riuscire ad accogliere questa cosa qua, c'è un cambiamento da fare, quello che vi aiuterà a navigare questo cambiamento sarà la flessibilità. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Re di coppe. 4 di coppe. Una carta per il 5 di coppe. 4 di bastoni. È vero, è vero. So quello che pensa. No, l'ho sentito quando ha tirato giù queste carte. Allora, questo sarà un cambiamento importante, perché con la torre sarà un cambiamento a 360 gradi per qualcuno, o per qualcun altro di un settore della propria vita. Però è come se per armonia di un gruppo, della famiglia o un equilibrio particolare, l'essere flessibili vi aiutasse a navigare meglio questa situazione, ok? E soprattutto vi aiuterà ad affrontare meglio quello che dovrete lasciare indietro, che per qualcuno, ragazzi, è la stabilità. Cioè, è come se le cose smettessero di essere piane, ma iniziassero ad andare su e giù. Il che non vuol dire che non ci sia linearità, perché magari il su e giù è costante, ok? Però non è piatto, ecco. Ho come questa sensazione, perché c'è il nove di coppe. Io sento che alla fine comunque un qualche tipo di soddisfazione ve la porterete a casa. È la carta del sogno compiuto, però essendoci questo sette di spade, o qualcuno non... perché ho l'idea che potrebbe esserci anche questa persona che a livello romantico genuinamente vi dica, ti do una mano io a superare la situazione, ti do una mano io a trasferirti, ti do una mano io a... però che poi non riesca, ma perché non è in grado, non perché non voglia. O comunque con questo sette di spade fate attenzione perché ci sono come dei sotterfugi da parte di questo cavaliere di bastoni. Ed è proprio una persona che conoscerete. Potrebbe essere Ariete Leono Sagittario, ve lo dico a titolo informativo, che in qualche modo potrebbe sì darvi qualche spinta in più, anche perché abbiamo la carta degli amanti e il cavaliere di spade che appunto spinge, mette fretta di solito. Voglio una carta per gli amanti ancora. A forza. È come se ci fosse un'insicurezza in questo... in questo contatto, mi viene a dire, perché il cavaliere di bastoni sicuramente è una persona che incontrerete nel prossimo periodo. Allora, Osho vi porta il creatore e... stress. Sì, ma infatti sì, vi sento parecchio indaffarati nel prossimo periodo, ragazzi. Parecchio, parecchio indaffarati. Questo è un sette di bastoni, qui avete il nove di bastoni. È come se vi dicessero che avete bisogno anche di scaricare un po' le energie, ok? Siete troppo adrenalinici come in questo momento. vi dico, c'è un... se fosse la persona da gestire, da accudire, da aiutare, potrebbe essere una persona anziana o... o qualche figlio. Se fosse una situazione imprevista, potrebbe essere o l'arrivo di un bambino, la partenza di un nuovo progetto o un nuovo tipo di accordo per una gestione familiare, aziendale, anche se la sento più familiare, comunque, aziendale, potrebbe esserci bisogno di... di accomodare dei turni, di... dividersi i compiti. Potrebbe per qualcuno anche essere necessario un avvocato, ve lo dico. Però ecco, il consiglio qui è un po' quello di rimanere flessibili, di studiare... guardate, tra il fante di pentacoli e la carta dell'appeso avete proprio la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e anche di sperimentare strade nuove. Vi dico, tolta la fretta del cavaliere di spade e tolto questo sette di spade che secondo me potrebbe essere un entusiasmo, come vi posso dire, troppo bello per essere vero. però poi comunque alla fine le carte sono positive, c'è questo nove di pentacoli, è vero che perderete la stabilità, ma questo non vuol dire... cioè è come se ci fosse... il quattro di bastoni in questo caso, lo sento come la calma piatta, quindi... e qui invece vedo che c'è movimento in quel senso, è solo la stabilità, nel senso che le cose saranno più movimentate. Va bene, andiamo a vedere una meditazione di Findorn che sono canalizzazioni di messaggi divini di Dio. Se però voi non credete in Dio, potete sostituire questa parola con Madre Natura, con Universo oppure con il nome dell'entità in cui credete. Entra nel silenzio. Senti la pace e la serenità che scendono su di te senza che te ne accorga. In questo stato di pace perfetta chiedi e ricevi la mia benedizione. Poi vai, prosegui, animato dalla fede e dalla fiducia assoluta. Fai ciò che va fatto e sappi che io sarò con te lungo tutto il cammino e che tutto andrà per il meglio. Più è grande il tuo compito, più grande è la fede ed il bisogno della mia benedizione. Impara a farmi entrare in ogni aspetto della tua vita, in modo che tutto sia benedetto da me. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrai invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. Wow, ma che bella questa! Bene, amici dei gemelli, spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere con un commento o con un like. Se volete sostenere il canale potete anche iscrivervi o condividere il video. e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi. Per capire quali sono i temi trattati nella sezione degli abbonamenti potete curiosare nelle playlist apposite. Sono quelle con le copertine lilla. I titoli dei video sono pubblici, si vedono. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un secondo semestre 2024 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!